L'ennesimo fermo di un passere in regione, ancora una volta di origine ucraina. Stavolta le volanti di polizia sono entrate in azione a Gorizia in via degli Scogli dopo aver notato un'auto di grossa cilindrata con targa straniera. Un controllo che rientra nell'ambito del potenziamento dell'attività di vigilanza del confine disposto dal Ministero dell'Interno e dell'incremento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità pianificati dalla locale Questura. All'interno del mezzo, oltre all'autista, un trentenne ucraino, erano stipate altre sei persone. Si trattava di una famiglia di siriani, una coppia insieme ai quattro figli minori, tutti senza permesso di soggiorno. Erano ricorsi al pagamento di migliaia di euro in contanti per completare il viaggio della speranza verso l'Europa. All'interno del veicolo è stato anche trovato e sequestrato un taglierino nascosto nel portabagagli. Alla luce di quanto è emerso, il passer, che dovrà rispondere anche del reato di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere, è stato tratto in arresto per violazione delle normative in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e accompagnato al carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il GIP ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere confermata dal Tribunale del Riesame.